Eder, Mech, Pallister oscuri ai quali mai è stata data luce e il niente ed ancora il niente. E siamo ancora qui ad aspettare che tornino le nostre bambine, ad aspettare di sapere quale è stato il loro destino. Chi le ha sottratte alle loro famiglie? Chi? Come? Perché? Troppi anni sono passati dalle loro scomparse, troppi. E si aspetta, si aspetta, strinti nel dolore delle famiglie, che si sono viste sottrarre le figlie, di sapere cosa sia successo. Ma soprattutto ci si aspetta che vengano ritrovate. Santina Renda, Angela Celentano e tante altre nostre bambine. Oggi, la disperazione richiama la scomparsa di Denise Pipitone, avvenuta proprio il primo settembre di 19 anni fa da Mazzara del Vallo. Ti cercheremo sempre, fino a prova contraria. Speriamo con tutto il cuore che ovunque tu sia, almeno stai bene. Noi non molliamo. A chi deve dare le risposte che si attendono oramai da troppi anni si chiede di dare pace a tanta sofferenza. Perché sentirsi dire che non siete stati capaci di ritrovare una bambina rapita e sottratta alla famiglia, è un'umiliazione troppo grande non solo per le forze dell'ordine e per gli inquirenti. Ma anche per chi in quelle forze dell'ordine inquirenti credeva e sperava. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.